Maria di Carrara per presentare La forma del buio, la seconda indagine del commissario Mancini che è alla caccia del serial killer chiamato lo scultore, che strassia i corpi delle sue vittime, li mette in scena come se fossero dei mostri mitologici e li abbandona nelle ville, nei parchi della capitale di Roma. La forma del buio, Mirko Zilei Longanesi.